Il merito di aver bloccato la striscia positiva di vittoria della Nissa, comunque un ottimo atletico Gela che avrebbe meritato se l'abitro avesse concesso quel calcio di rigore, alla fine anche la vittoria. Ma devo dire, oggi abbiamo fatto una grande partita, la Nissa è prima in classifica ma non si è visto, noi abbiamo giocato tutti i due tempi, abbiamo fatto bene, abbiamo creato palle gol, un rigore nettissimo, il mio portiere ha fatto soltanto una parata, però per una squadra come la Nissa che ha a fior di giocatori che hanno militato in Serie C, per me fermarla è un orgoglio. Nella sua squadra mancavano Nicotra, quindi un non faro diciamo al centrocampo, si è sentita la sua assenza oppure no? L'assenza di Nicotra è importante per la mia squadra e per il gioco, però devo dire che Navanzino è stato bravissimo, ha fatto un'ottima partita, giustamente è un giovane che deve ancora migliorare, deve crescere, si poteva fare qualcosa in più, però sono contento così. E' un Atletico Gela che vuole consolidare la posizione nella griglia playoff? Ma sì, noi abbiamo preso cinque giocatori, di cui tre hanno giocato oggi, poi c'è Messara, Bessio, quindi la squadra è stata rinforzata, sicuramente cercheremo di dare filo da torcere a tutti. Si diceva questa inizia che era imbattibile, però alla fine l'Atletico Gela è riuscita a levare questa corona dell'imbattibilità nazionale, quindi noi siamo orgogliosissimi e va bene per noi il pareggio. Un Atletico Gela che poteva anche sbloccare il risultato e portare a casa tre punti se l'arbitro avesse concesso un rigore, a mio avviso sacrosanto, su Argetta. Si è visto il rigore che era fortemente accettabile da parte nostra perché comunque c'era, tutto il pubblico ha ricominato il rigore, anche il Guardialini, però l'albitro evidentemente già quando vengono sanno, secondo il mio parere, quello che fanno. Certamente non è riuscito a fare vincere la Nissa, però va bene così, noi abbiamo cercato di fermarle e ci siamo riusciti.